Tratto da un discorso di Brother Anandamoy, un maestro mondiale. Dopo le tecniche, alcuni devoti talvolta chiedono, dopo cosa faccio? Ma è allora che inizia la meditazione, perché a questo punto avete fatto lo sforzo di andare all'interno, ed è lì che Dio vi aspetta. E quindi quando siete alla presenza di Dio, cosa fate? A quel punto non fate più niente, perché se volete fare qualcosa, ricordatevi che le azioni vengono compiute dalle facoltà, dagli strumenti, l'anima non fa niente. Ora quando dico non fate più niente, non voglio dirvi di porvi in uno stato passivo e vuoto. Quando eravamo seduti con Yogananda non ci addormentavamo e nemmeno saltellavamo tutto intorno. Eravamo immersi nella sua presenza. Quindi rendete la cosa molto semplice in meditazione. Siete alla presenza di Dio. E poi cosa succede? Oblio di se stessi. Non pensate più a cosa posso ricevere. E non cercate più di ottenere delle esperienze. Niente di tutto ciò. Il sé, l'ego, deve andarsene. C'è un totale abbandono di sé. C'è solo una cosa. Tu mio Dio. E non sto parlando di esperienze in termini di fenomeni. Fenomeni paranormali e tutta questa robaccia, capite? Yogananda ha detto, questo non è un circo. Avete la tv per quello. Lo vediamo dalle lettere che riceviamo continuamente. La gente non capisce. La gente cerca di ottenere un'esperienza. Se cercate di forzare non l'avrete mai. Non le vere esperienze. La pace. Cercate Dio in aspetti essenziali come la pace. Come la luce. La luce di Dio o l'om o l'amore o la gioia. Se riusciamo a percepire qualcuno di questi aspetti, questo è Dio. Allora, abbandonatevi adesso, capite? Ed è per questo che Yogananda ha detto, e l'ha detto perfettamente, perdetevi semplicemente nel vostro amore per Dio. Più nessun pensiero di sé, solo per Lui. Se pensate a voi stessi, non state meditando, perché meditazione significa concentrazione su Dio, ad esclusione di tutto il resto, e ciò significa escludere l'ego. A volte capita che non succede nulla, vero? Non c'è niente, solo scurità. E la gente dice, beh, non ottengo niente di niente, è inutile, non merito niente. Non è vero. Perché questo è necessario. Cose così sono necessarie, quando Dio sembrano rispondere. E cito ora Ghianamata, una grande discepola di Yogananda, perché lei attraversò, e tutti noi abbiamo attraversato, periodi del genere. Disse, non fate caso al suo silenzio, se cioè non ricevete una risposta tangibile. Ricordate, disse, lui sta ascoltando, lui sa quello che state offrendo. E così impariamo. Sapete cosa impariamo? L'amore puro. L'amore incondizionato. Ecco perché Gesù ha detto, i puri di cuore vedranno Dio. Cosa significa un cuore puro? Un cuore senza egoismo. Ghianamata ha detto, voglio amare Dio come lui ama, e come amano i suoi santi, vale a dire, senza chiedere nulla in cambio. Dando, amando, non chiedendo nulla. Sapete, dovete fare molta attenzione a questo concetto. Quando ieri abbiamo sentito la voce di Yogananda, la registrazione diceva, la tua meditazione di oggi dovrebbe essere migliore di quella di ieri, e quella di domani migliore di quella di oggi. Personalmente non credo che intendesse questo in modo letterale. Lo so per esperienza personale, e l'ho appreso dall'esperienza degli altri. Semplicemente non funziona in questo modo. ci sono momenti in cui è facile meditare, e ci sono momenti in cui è molto difficile e non succede nulla. E i devoti allora pensano che non stanno progredendo. State progredendo perché vi state impegnando. State imparando l'amore incondizionato. State imparando ad amare e a sforzarvi di dare a Dio senza chiedere nulla in cambio. Il fatto di attraversare periodi del genere è un'assoluta necessità. E quindi quando Yogananda disse che ogni meditazione dovrebbe essere migliore, intendeva semplicemente dire, non riducete e ripetere un processo meccanico che chiamate meditazione. Metteteci il cuore, metteteci il vostro senso, siate sinceri. Un altro aspetto, giusto per darvi il principio basilare, ovviamente non possiamo meditare tutto il tempo. Abbiamo i nostri doveri, abbiamo il nostro lavoro, il nostro ruolo esteriore da svolgere. E anche questo fa parte della disciplina spirituale. Ed è per questo che Yogananda ha detto I nostri doveri spirituali e materiali dovrebbero operare all'unisono, come due stalloni che tirano armoniosamente il carro della vita verso la felicità. E poi ha continuato spiegando Tutti i doveri esteriori dovrebbero essere spiritualizzati, ovvero dovrebbero essere tutti svolti con la coscienza interiore di Dio. Sapete, Paramansa Yogananda è così chiaro, così preciso. Cosa intende dire con queste parole? Vi darò un'illustrazione. Sono venuto in America per studiare con Frank Lloyd Wright, che era un famoso architetto dell'epoca, e io l'osservavo. Era il re dell'architettura, un vero genio. Osservandolo mi chiedevo È felice? E ho scoperto che non lo era. Era frustrato. E poi ho capito. Aveva cercato la felicità e l'appagamento attraverso la fama e la sua creatività. E ricordatevi ciò che ho detto prima. Non potete trovare l'appagamento completo in questo mondo. E questo include il nostro lavoro. Non importa quanto sia importante o meraviglioso. Non potete trovarlo, perché non è lì. E allora mi sono ricordato che ero stato in Italia e avevo visto i meravigliosi quadri del Beato Angelico, un grande pittore del Quattrocento. Ero un uomo veramente spirituale, un grandissimo devoto di Dio. E si dice che mentre dipingeva i suoi quadri di Cristo, dei Santi e così via, lacrime di devozione scorressero dai suoi occhi. Ho pensato. Ecco, questo è ciò che insegna Paramahansa Yogananda. Ora, non sto dicendo che quando lavorate dovete piangere. Non è ciò che voglio dire. Ma il Beato Angelico trovò l'appagamento interiore in Dio e riguardo alla sua pittura non dipinse per ottenere fama. Era un'offerta d'amore a Dio ed è ciò che dovete fare voi. Non importa cosa fate o quale sia la vostra occupazione. A Dio non potrebbe importare di meno. Ma ogni tanto fermatevi solo per un momento e interiormente dite faccio questo per te. E così spiritualizzate ciò che fate. Restate in questo modo centrati su Dio anche in mezzo al vostro lavoro. Quando prendete in considerazione i vari Santi delle diverse religioni attraverso i secoli ne trovate in ogni categoria di occupazione e di livello sociale. Dai re ai mendicanti ai monaci ai capi famiglia. Non è stata la situazione esteriore a renderli santi. È stata la coscienza interiore. C'era una donna nel XIV secolo una santa cristiana ebbe 14 figli. Sapete di solito quando si pensa a una persona che ha 14 figli è davvero tanto. ma era una santa. Non importa qual è il ruolo nel mondo è la coscienza interiore che conta. ma era una santa. Grazie a tutti.